Ciao amici, bentornati sul canale Il giornalismo del cuore, l'ex calciatore della Roma sorprende tutti. Arriva il gesto clamoroso che non lascia più alcun dubbio Totti beccato così, nessuno può crederci che dopo poco tempo sia già a questo punto con lei Francesco Totti travolto dal caos mediatico.Se fino ad ora ha cercato di mantenere un profilo basso e di conservare il riservo più totale sulla sua separazione da Ilari Blasi, adesso il pupone si ritrova agli occhi di tutti addosso, non soltanto dell'Italia ma del mondo intero, persino il dessin si è interessato alla separazione tra lo sportivo e la conduttrice che, come possiamo testimoniare tutti, ha avuto una risonanza mediatica di non poco Totti.Mentre Ilari Blasi, subito dopo la separazione si è mostrata immediatamente sui social come se nulla fosse successo, voltando pagina, il pupone è rimasto nel silenzio più totale, almeno fino a qualche giorno fa L'11 settembre ha fatto delle rivelazioni sulla fine del suo matrimonio, in un'intervista esclusiva rilasciata al Corriere della Sera, che ha rimescolato le carte in tavola e ha acceso la luce su segreti e misteri di cui nessuno immaginava l'esistenza Ormai la sua relazione con Noemi Bocchi non è più segreta, i due si vivono alla luce del sole e arriva anche il gesto clamoroso che non lascia più alcun dubbio, è accaduto davvero, è tutto confermato con delle foto che fanno il giro dei social Le foto del pupone sconvolgono i social.Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più Il gesto clamoroso del pupone fa rimanere tutti a bocca aperta L'ex calciatore della Roma ha violato una delle regole che, secondo alcune indiscrezioni, aveva posto la Blasi circa la tutela dei figli Blasi.Il calciatore ha fatto qualcosa di gravissimo, ha portato la sua terzo genita, la piccola Isabel, a casa di Noemi Bocchi, di nuovo L'esclusiva appartiene a chi? Il settimanale di Alfonso Signorini ha beccato l'ex calciatore della Roma mentre, all'una e mezza di notte, in compagnia di un'amica della Bocchi, tale Samantha, esce dalla porta sul retro dell'abitazione della ex moglie del patron del Tivoli Calcio, Mario Cauci, in compagnia di Isabel Pensava di non essere beccato dai paparazzi, Totti, e invece la sua faccia è sulle pagine del settimanale di Alfonso Signorini Francesco lascia la casa della Bocchi accompagnato anche da un bodyguard Sembra che faccia davvero sul serio con Noemi ma la questione ora si aggravava per lui Ilari Blasi non approva per nulla il comportamento dell'ex marito La conduttrice vuole che i figli restino fuori dai gossip e dallo scandalo mediatico Già qualche settimana fa, quando uscirono le prime voci di Pettegolezzi secondo le quali Totti, nel periodo di pieno crisi e sparazione con la Blasi portava Isabel a giocare con i figli della Bocchi Ilari in vacanza, torna furiosa a riprendersi la piccolina e la porta con sé in Croazia, insieme alla sorella, al cognato e ai nipoti Ora la storia si ripete ma Totti dopo l'intervista bomba rilasciata al Corriere della Sera sembra non avere più paura di niente e di nessuno Tutto gli scivola addosso, non si nasconde più La storia con Ilari è finita e un nuovo capitolo della sua vita, quello con Noemi, ormai è iniziato Noemi, ormai è iniziato Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme Ci vediamo nei prossimi video, fino a quando ci incontriamo nuovamente